Buon pomeriggio dalla redazione di live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che anche quest'oggi così come ieri vede purtroppo e ovviamente in primo piano la vicenda del brutale assassinio di Carol Maltesi, nome d'arte oppure Carol Engi. Ebbene ricordate tutta questa vicenda che ha avuto una svolta nella giornata di ieri, l'arresto nella notte di lunedì di Davide Fontana, presunto assassino, Reo Confesso, messo la stretta dai militari, infatti ha confessato questo brutale assassinio. A distanza di qualche ora emergono dei drammatici dettagli. Man mano che passano le ore emergono ulteriori drammatici dettagli sulla tragica vicenda dell'uccisione di Carol Maltesi, il cui corpo è poi stato fatto a pezzi e gettato in un bosco di borno dal suo assassino. Dalla notte di lunedì è in carcere accusato di questo gesto efferato il bancario milanese di 43 anni Davide Fontana, che messo alle strette dai carabinieri non ha potuto far altro che confessare il delitto. Il presunto omicida ha dichiarato ai militari di aver ucciso la giovane madre durante un gioco erotico colpendola con un martello lo scorso mese di gennaio. Poi non ho più capito nulla, avrebbe detto Fontana agli inquirenti secondo l'agenzia ANSA. L'uomo ha poi aggiunto di aver acquistato un congelatore proprio per nascondere il corpo di Carol in casa sua, dove è rimasto per diverse settimane prima che prendesse la decisione di smembrarlo e abbandonarlo nei monti della Valcamonica. I due erano vicini di casa e sembra avessero avuto anche una relazione. Dal momento dell'uccisione Fontana avrebbe tentato di nascondere la morte della giovane fingendosi lei sui social e rispondendo ai messaggi che venivano inviati al cellulare della vittima. Fontana avrebbe dichiarato di avere anche pagato l'affitto dell'appartamento di Carol Rescaldina, ora posto sotto sequestro, per non attirare sospetti e celare così la sua improvvisa scomparsa. Adesso il presunto assassino è a Canton Mombello e proprio in queste ore è in corso l'interrogatorio di convalida del fermo. Sarà poi il momento del lungo processo. Proseguiamo sempre con la cronaca ma ci spostiamo a Gussago dove i carabinieri in queste ultime ore hanno tirato le fila di una lunga indagine partita nel 2019 che ha sgominato una gang, una baby gang che si faceva chiamare gang 88. In tutto sono 19 giovani e giovanissimi, ci sono anche dei minorenni finiti nei guai per reati come lesioni, rapina, furto e anche spaccio di droga e inoltre sono sotto indagine altri 23 giovani che sono indagati a piede libero. Si facevano chiamare gang 88. Nei guai sono finiti in 19, fra di loro 15 sono poco più che ventenni, 4 sono addirittura minorenni. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, in particolare lesioni, furti e rapine, oltre a detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di porto di oggetti atti ed offendere. I 4 minorenni sono invece accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro persona e patrimonio. L'operazione, indagini ed esecuzione degli ordini restrittivi ha visto impegnati ben 135 carabinieri. Per 4 maggiorenni e 4 minorenni si sono aperte le porte del carcere, 8 sono gli arresti domiciliari, per 3 sono invece scattate le misure dell'obbligo di dimora con obbligo di permanenza notturna. Gli arresti sono scattati a seguito di una lunga indagine della Compagnia dei Carabinieri di Gardone Valtrompia, avviata dalla stazione Carabinieri di Gussago nel maggio 2019, nata da alcuni episodi di furti e di rapine avvenuti fra Brescia e provincia nei confronti di altri giovani e giovanissimi. L'indagine è poi proseguita fino a luglio 2021, con intercettazioni telefoniche supportate da servizi di osservazione e pedinamento, oltre a testimonianze che hanno permesso di accertare la responsabilità degli indiziati. Alcuni degli indagati, sottoposti a restrizioni, oltre alla partecipazione alla Gang 88, avrebbero autonomamente avviato anche un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e marijuana, attività proseguita anche nei periodi di lockdown. Oltre alle 19 misure restrittive, i carabinieri hanno eseguito 23 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati a piede libero. È il momento ora di occuparci della situazione degli incendi in terra bresciana. Questa mattina la pioggia timidamente si è fatta vedere, speriamo che possa arrivare più decisa e quindi mettere la parola fine a questi drammatici giorni. Intanto il bilancio è sicuramente davvero molto pesante, sono circa 400 gli ettari di bosco andati letteralmente in fumo. Sonico, Valvestino e Bezza d'Oglio. Purtroppo i boschi bresciani continuano a bruciare e questi tre fronti, proprio come ieri, sono ancora attivi nonostante l'impegno e l'ampio dispiegamento di forze. Un sommario bilancio dei boschi distrutti dai roghi disegna una situazione drammatica. Gli ettari di vegetazione spariti in questi pochi giorni sono per ora circa 380. A Sonico il vasto rogo ha già divorato 100 ettari di bosco. Attualmente sono impegnati sul campo tre mezzi aerei, un Canadair della Frotta Aerea Nazionale e due elicotteri del Servizio Antincendio Regionale. Le operazioni però non si svolgono solo dal cielo. A terra infatti ci sono due moduli antincendio dei Vigili del Fuoco con cinque operatori oltre ai volontari AIB. In Valvestino gli ettari di vegetazione andati in fumo sono addirittura 130. Anche su questo fronte sono tre i mezzi aerei al lavoro per tentare di avere la meglio sulle fiamme. Come a Sonico un Canadair e due elicotteri regionali. Stanno operando due DOS, direttore operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco e una squadra di terra con un modulo antincendio e un autobotte. Presenti anche qui i volontari. Spostandoci a Vezzadoglio il bilancio purtroppo peggiora ulteriormente. Qui gli ettari di bosco bruciati sono 150. Anche in questo caso si prova a vincere il fuoco dal cielo con un Canadair e due elicotteri. Oltre che da terra con due DOS dei Vigili del Fuoco, una squadra con modulo antincendio e i volontari AIB. Voltiamo pagina e ci occupiamo ora di sanità. Una di quelle tematiche che negli ultimi due anni è sicuramente salita alla ribalta delle cronache, entrata nella vita di tutti noi. Non parliamo per il momento di Covid, rimandiamo fra poco i dati sulla diffusione del contagio. Parliamo ora di una sorta di rivoluzione che dall'inizio del 2023 riguarderà il pronto soccorso della Lombardia. Infatti l'assessore regionale al welfare e vicepresidente Lombardo Letizia Moratti ha annunciato un totale cambio per quanto riguarda il triage nel pronto soccorso Lombardi. Non ci saranno più i codici colorati, il codice bianco, il codice verde, giallo e rosso. Si passerà a una classificazione tutta nuova, questo per ovviamente velocizzare le operazioni. Rivoluzione nei pronto soccorso della nostra regione. Niente più bianco, verde, giallo e rosso. Regione Lombardia ha annunciato un passaggio storico dei quattro codici contraddistinti dai colori a una nuova classificazione a cinque codici numerici. L'obiettivo di questa riforma è di distinguere i pazienti in codice verde, fra chi necessita realmente di una visita entro 60 minuti e chi invece no. Attualmente infatti i pazienti identificati con il codice verde in Lombardia rappresentano bene il 70% degli accessi, circa 2,8 milioni di persone. Il nuovo modello di triage, contenuto in una delibera approvata dalla giunta su proposta della vicepresidente Assessora Luelfer Moratti, risulta dunque così articolato. Codice urgenza, ingresso immediato, urgenza indifferibile, tempo massimo di attesa 15 minuti, urgenza differibile, tempo massimo di attesa 60 minuti, urgenza minore, tempo massimo di attesa 120 minuti e non urgenza, tempo massimo di attesa 240 minuti. Secondo Moratti la presa in carico permetterà di identificare precocemente eventuali quadri clinici potenzialmente evolutivi, come un'infezione grave o un infarto miocardico, favorirà il trattamento tempestivo del dolore e ridurrà il tempo complessivo di permanenza nei pronto soccorso. Ma non solo, aggiunge l'assessore, Regione Lombardia promuoverà anche una soluzione che permetterà di ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorso, indirizzando il cittadino direttamente a percorsi monospecialistici per codici non urgenti, gestiti completamente in aree dedicate. L'avvio a pieno regime del nuovo sistema è attualmente previsto per il 1 gennaio 2023. Come promesso restiamo ora in tema sanità, ma entriamo in tema Covid, lo facciamo con i dati sulla diffusione del contagio che come sempre andiamo a passare i rassegni, a leggere insieme sul nostro sito internet www.libretia.tv. Eccolo qua l'articolo pubblicato dalla redazione nella serata di ieri con il bollettino del martedì sera che come sempre dimostra una crescita a un po' di tutti i numeri. Dopo invece il bollettino del lunedì che come sappiamo è influenzato dal basso numero di tamponi processati. Ricorderete lunedì sera hanno stati meno di 25 mila, nella giornata di ieri sfiorano i 100 mila, 99 mila 284 i tamponi processati, 12 mila 518 i nuovi contagi emersi, positività che in Lombardia quindi aumenta 12,6%, sostanzialmente un punto percentuale. I nuovi contagi relativi al territorio bresciano sono 1.612, nuovamente secondo aumento in Lombardia dopo Milano, 4 mila 88 per il capoluogo Lombardo e nella giornata di ieri hanno superato i mille contagi altre due province, Monza e Varese nel dettaglio. Su fronte dei ricoveri buone notizie delle terapie intensive con un segno meno seppur minimo, i posti letto che passano da 47 a 46, quelli occupati nelle rianimazioni della nostra regione e invece purtroppo troviamo un altro aumento, aumento abbastanza consistente nei ricoveri di area medica con un più 43, si torna al di sopra della soglia dei mille posti letto occupati nei reparti non di terapia intensiva della nostra regione ed era diverse settimane che questa soglia non veniva superata, insomma speriamo possano tornare a scendere nei prossimi giorni. Sono infine 21 i decessi segnalati nell'ultima giornata in regione Lombardia tre di queste segnalazioni attengono anche al territorio di pertinenza della TS di Brescia si tratta di una donna di 93 anni di travagliato deceduta lo scorso venerdì, di un'altra donna della stessa età della città invece di Brescia deceduta domenica e di un uomo di 88 anni di Calvisano mancato invece nella giornata di ieri. Proseguiamo, cambiamo nuovamente argomento, torniamo ad occuparci adesso del tram, il nuovo tram che arriverà a Brescia dovrebbe arrivare nel 2029, nei giorni scorsi la presentazione ufficiale alla comunità del progetto, ora si scoprono anche dei dettagli in più su quella che sarà la linea T2 pendolina centro Fiera, scopriamolo insieme. Il tram arriva o meglio ritorna a Brescia, già lo si sapeva i progetti erano stati resi pubblici e il ministero a fine 2021 aveva approvato il finanziamento, ora però quella che diverrà alla linea T2 pendolina Fiera è stata ufficialmente presentata alla comunità in un incontro ad hoc, il progetto prevede la realizzazione di una linea tramviaria ad alimentazione elettrica che collegherà la pendolina alla Fiera di Brescia passando per il centro storico e la stazione ferroviaria lungo un percorso di 11,6 chilometri con 24 fermate, dal ministero sono stati istanziati oltre 359 milioni di euro che secondo le stime dovrebbero coprire il 99% delle spese per la realizzazione, sono previsti 18 convogli lunghi dai 32 ai 35 metri con una capienza di circa 220-250 passeggeri e una velocità commerciale di circa 18 km all'ora, la frequenza nelle ore di punta sarà di circa 6 minuti, oltre il 70% del tracciato sarà in sede propria garantendo così tempi celeri e regolari al servizio, l'alimentazione sarà totalmente elettrica e i convogli avranno nei tratti più periferici la classica linea aerea con il filo, mentre nel centro storico si passerà ad una alimentazione a batteria eliminando dunque fili e sostegni per ridurre l'impatto visivo. In queste settimane è in corso la gara per l'affidamento della progettazione definitiva cui seguirà il progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori che da cronoprogramma ministeriale dovranno venire entro il 31 dicembre del 2023. L'avvio dei lavori è previsto a partire dai primi mesi del 2024, mentre l'entrata in esercizio della prima linea è prevista per il marzo 2029. E parleremo anche nei prossimi giorni di questo progetto nel tram, già nell'edizione di questa sera della 19 del telegiornale potremo anche farvi sentire le voci sicuramente del sindaco del Bono o magari anche dell'assessore Manzoni per entrare un po' di più in questo nuovo progetto sicuramente importante e che sicuramente vedrà anche qualche discussione, queste non mancano mai per il territorio di Brescia. Proseguiamo con il telegiornale, lo facciamo spostandoci in provincia nel dettaglio a Desenzano del Garda perché ieri la Giunta Comunale ha presentato il bilancio 2021, sentiamo le parole dell'assessore appunto al bilancio competente Pietro Avanzi, visibilmente soddisfatto dai numeri. 2021 che si chiude con un bilancio e un avanzo di 4 milioni di euro, non poco. Sì, è in linea un po' come gli altri anni perché la nostra politica è sempre stata quella di riuscire ad avere un certo avanzo di amministrazione per riuscire a finanziare opere pubbliche che altrimenti non sarebbero state possibili, dato che negli ultimi anni con la crisi immobiliare gli oneri urbanistici si sono ridotti di molto. Questo ha permesso quindi, come si vede, come chiunque può vedere a Desenzano, il nuovo Lungolago, la Caserma per i Vigi del Fuoco e altre grandi opere che stiamo portando a termine in questi tempi. È tempo anche di bilancio degli ultimi cinque anni, visto che Desenzano va a elezioni nei prossimi mesi. Sì, bilancio sicuramente positivo, lo dice una parte in causa per carità, non possiamo negarlo, però non possiamo nemmeno negare che i cittadini desenzanesi in questi cinque anni non hanno sborsato un euro in più di tassazione perché l'Imu è rimasta sostanzialmente, no, sostanzialmente è rimasta identica a quando siamo arrivati, addirittura l'addizionale IRPEF è stata, diciamo l'esenzione dell'addizionale IRPEF è stata portata a 18 mila euro, quindi il 48% dei cittadini desenzanesi non la pagherà e i parcheggi sono stati resi gratuiti per la prima ora e col 50% di sconto dopo per tutti i cittadini desenzanesi e la politica turistica ha permesso di aumentare di un poco la tassa di soggiorno che poi naturalmente viene riversata sull'utilizzo sul territorio per la tenuta del verde e di altre manifestazioni che tornano utili anche ai cittadini desenzanesi senza sborso di denaro e aggiungo anche negli ultimi anni di pandemia, oltre ai servizi sociali, l'istruzione che hanno ricevuto, fondi, tutto quello che è stato necessario, anche un aiuto dal punto di vista della tassazione dell'Atari e della tassa rifiuti che è stata sostanzialmente in buona parte anche ridotta per tutti i cittadini. Lo sport ora che in primo piano vede la pallanuoto, vede la Enne Brescia perché dopo una lunga pausa questa sera ritorna finalmente la Champions League, lo fa a Monpiano, a Monpiano dove arriverà la Dinamo Tiblisi che è il fanalino di coda, ultima nella classifica del girone A, girone A che vede invece in prima posizione proprio i leoni di Sandro Bovo che stasera proveranno a vincere per portare a casa tre punti fondamentali in ottica qualificazione. A distanza di più di un mese dall'ultima volta la Champions League torna protagonista alla piscina di Monpiano. Questa sera alle 20.30 la Enne Brescia affronta la Dinamo Tiblisi in quella che è l'undicesima giornata del gruppo A. Gruppo che ora vede i leoni in testa con un bottino di 23 punti, a una vittoria di vantaggio su Belgrado. L'avversaria di oggi invece è fanalino di coda del girone con zero punti raccolti, ciò significa un ruolino di marcia con sole sconfitte. Conquistare l'intera posta questa sera sarebbe fondamentale per i leoni che hanno tutte le intenzioni di voler chiudere il discorso qualificazione e nel frattempo cercare di puntare al primo posto. Con Vapensky ancora da valutare, la squadra di Sandro Bovo dovrà sicuramente gestire le forze con un occhio di riguardo alla difesa. I campioni d'Italia però in settimana si sono allenati bene e sono quindi pronti per la sfida. Sono tre punti fondamentali per noi per avvicinarci alla qualificazione, ha detto coach Bovo alla vigilia ribadendo questi concetti. Ci stiamo allenando davvero molto bene e sono molto contento della squadra. Anche i giovani stanno dimostrando di essere all'altezza quindi mi fa molto piacere. Noi dovremo giocare forte dietro e stare attenti. Il basket ovviamente significa spazio alla pallacanestro Brescia che ha le prese con alcuni infortuni all'interno del proprio roster con gli stracichi delle due partite davvero difficili da vincere. La prima contro Milano, la seconda più di cattiveria, più di carattere contro Pesaro. Non ci saranno molto probabilmente la prossima domenica alle 18 contro Trento al Pala 2 a Cobbins e Burns. Già a Pesaro la pallacanestro Brescia non era al meglio. Gli stracichi della sfida casalinga con Milano si facevano sentire ma nonostante questo è arrivata una vittoria di carattere. Durante i 40 minuti del match però si sono contate due importanti defezioni nella fila della Germani, due atleti che hanno dovuto lasciare anzitempo il parquet, Cobbins e Burns. Nelle scorse ore la società ha emanato il consueto bollettino di aggiornamento e per il momento non ci sono buone notizie, infatti non vengono specificate le date del rientro per entrambi i cestisti. Cobbins, infortunatosi a una spalla, ha avviato gli esami strumentali martedì e li terminerà giovedì. Per questo motivo non è possibile sapere di più sulla sua condizione. Burns gli esami li ha completati e ha subito una distorsione della caviglia sinistra. L'atleta ha già iniziato il ciclo di terapie ma non è ancora il momento di azzardare la data del ritorno in campo. La società ha infatti comunicato che le sue condizioni saranno valutate costantemente giorno dopo giorno per capire i progressi. Chiudiamo qui questa edizione del telegiornale. Come sempre prima di salutarvi vi porto un'ultima volta sul nostro sito www.livebrescia.tv solo per ricordarvi che qui trovate tutte le notizie sempre aggiornate, la diretta di Elive in questo piccolo box e se volete ricevere invece le notizie sul vostro telefono cellulare trovate anche i banner dedicati per accedere e poi iscrivervi ai nostri canali Telegram, Elive Brescia News e Elive Brescia Sport. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, continuate a seguirci, continuate a rimanere con noi. Io invece vi aspetto questa sera 18.35 come sempre per anteprima TG a seguire invece il telegiornale delle 19. Nel frattempo un buon proseguimento di giornata a tutti voi e a presto. Grazie. Grazie.